Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 10 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 17 versetti dal 20 al 25. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù quando verrà il regno di Dio. Egli rispose loro il regno di Dio non viede in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo ma non lo vedrete, vi diranno eccolo qua oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Il Vangelo di oggi ci presenta l'attesa del regno di Dio che i farisei percepivano nel loro insegnamento ma che cercavano di cogliere come ci fa notare Gesù al di fuori. Così Gesù coglie l'occasione per correggere questa loro dispersione interiore e riportare la loro attesa nel tempo presente, nel qui e ora. Il regno di Dio è in mezzo a voi, dichiara apertamente Gesù ai farisei. Dicendo questo Gesù sposta la questione, lo notiamo, dalla richiesta che riguardava il tempo, quando verrà il regno di Dio, si passa alla questione, anzi Gesù passa alla questione della modalità. La domanda da porsi, questo vuol dire, non è tanto quando verrà il regno di Dio ma come. I farisei infatti, come forse anche tanti di noi, avevano bisogno di imparare che il regno di Dio, come dice Gesù non viene in modo da attirare l'attenzione ma si realizza in mezzo a noi discretamente nel silenzio e spesso anche senza che ce ne accorgiamo, cresce in modo misterioso perché non siamo noi gli artefici di questa crescita ma è Dio. Per questo la verità, la giustizia, la bontà, non fanno mai rumore perché se accogliamo davvero in noi la fede in Dio, se crediamo davvero che il regno di Dio è in mezzo a noi, non abbiamo più bisogno di difenderci perché non abbiamo nemmeno più bisogno di temere che qualcuno ci sia nemico. Dio è con noi se il regno di Dio è in mezzo a noi. Credere che il regno di Dio è in mezzo a noi, come rivela oggi Gesù i farisei, vuol dire che non dobbiamo aspettare un tempo preciso ma oggi possiamo accoglierci gli uni gli altri, fidarci di chi ci sta accanto, dare la possibilità a tutti di migliorare. Questo insegnamento è importante che noi lo custodiamo nel cuore perché spesso anche noi mettiamo il quando prima del come, soprattutto nelle nostre richieste a Dio. Nella seconda parte del testo poi notiamo che Gesù rivela una verità ancora più profonda riguardo alla venuta del regno di Dio, all'attesa quindi alla manifestazione del regno di Dio. Gesù dice come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parole misteriose almeno per gli apostoli lì erano i discepoli, la gente, erano parole misteriose che però trasmettono oltre all'adesione al presente quella che aveva rivelato già ai farisei, ci trasmettono che il regno di Dio si può accogliere in un modo più profondo, cioè facendo per sé, quindi prendendo per sé la specifica modalità con cui il figlio dell'uomo sceglierà di manifestarsi, cioè nella debolezza, nella passione della croce. Ringraziamo allora oggi il Signore che ci porta a contemplare ancora la bellezza del suo regno che è in mezzo a noi oggi grazie al dono della vita che lui ci fa e che egli stesso ha voluto donare per noi per amore sulla croce. Ci aiuti allora lui, il Signore, a far crescere il suo amore in noi e intorno a noi perché il suo regno venga e la pace possa abitare ancora oggi la nostra terra. Buona giornata!